buon pomeriggio a tutti benvenuti alla sessione del mercoledì sessione del trading live un saluto a tutti quanti qui a riccardo zago che parla quindi in compagnia mia fino alle ore 17 un saluto a tutti quanti oggi siamo in moltissimi perché il trading live è aperto è stato aperto a tutti quanti quindi accesso libero per quest'oggi un piccolo regalo di investire.biz per iniziare bene l'anno o per concludere ormai questo gennaio del 2020 saluto tutti quanti connessi ora salutarvi tutti ci metterei ore quindi chiedo subito se audio e video sono ok se sono perfetti così possiamo subito iniziare nel frattempo vedo che si stanno connettendo ancora molte persone voglio ricordarvi che a questo appuntamento potete partecipare per sempre insomma tutte le settimane se aprite il conto di trading con uno dei nostri broker partner nello specifico kimura trading con cui stiamo collaborando a stretto contatto non solo il trading live c'è come servizi in regalo ma tanti altri servizi quali il traders club che è il nostro segna se il nostro gruppo di segnali operativo di segnali operativi e il giovedì abbiamo la sessione di trading con i cimocco anche questo in regalo per un mese come il traders club molto operativa come sessione so che molti di voi l'hanno già fatta e questo mi fa veramente molto piacere quindi queste sono le promozioni se volete approfittarne detto questo detto questo possiamo iniziare audio e video mi dite che è ok alessandro mi dice anche con i g certo kimura trading e i g markets questi sono i due broker con cui collaboriamo più a stretto contatto quindi se aprite un conto con quelli avete un sacco di promozioni almeno per il momento non so per quanto vadano avanti comunque per ora ci sono quindi non è un problema allora vedo moltissimi feedback positivi a livello di audio video ottimo quindi noi possiamo tranquillamente iniziare la nostra sessione sessione di trading live andiamo ad aggiornare un po di strumenti che abbiamo in portafoglio ma andiamo a fare anche un po delle considerazioni generali sui mercati se avete delle domande mi raccomando fatemele perché questa sessione è fatta apposta apposta per rispondere a tutte le vostre domande quindi io ho il mio fogliettino qui mi faccio la scaletta la scaletta mia ce l'ho già in mente però siete in molti oggi veramente tanti quindi se avete delle proposte fatemele pure trading live 22 01 20 mi chiedete subito un'analisi su beyond meet va bene la facciamo andiamo subito a vedere questo titolo azionario che sta stupendo tutti negli ultimi giorni come aveva fatto non appena quotato andiamo a vedere il titolo beyond meet che potete trovare tranquillamente sulla piattaforma del broker kimura trading vi ricordo inoltre che con la piattaforma di kimura potete operare sulle azioni senza commissioni praticamente veramente ragazzi qui abbiamo delle abbiamo delle opportunità molto interessante a livello commissionale perché non si spende veramente nulla se andiamo a fare trading sulle azioni non sto parlando di investimento sto parlando di trading quindi mi chiedete beyond benissimo mi chiedete tesla ok bene partiamo allora dalla prima richiesta beyond cosa sta facendo beyond ieri ha fatto un più 18 per cento i prezzi sono passati da un minimo di 108 109 a un massimo di 129 incredibile comunque negli ultimi nell'ultimo periodo il prezzo è passato da 74 dollari a 130 abbiamo quasi raddoppiato quasi fatto il 100 per cento io avevo segnalato dei livelli importanti anzi avevo incrementato le mie posizioni che ho ma nel mio portafoglio che non riguarda il trading da 73 73 era un livello molto interessante caratterizzato da forte da una zona volumetrica molto importante oltre che tecnica ora però che siamo a 130 vediamo quali sono le prossime resistenze attenzione quindi beyond ok è salito molto forse troppo con troppa forza negli ultimi giorni ma vediamo che qui abbiamo delle resistenze molto importanti quindi se avete delle posizioni a rialzo attenzione ovviamente sto parlando di trading di breve termine non di investimento qui i prezzi potrebbero fermarsi proprio dove siamo adesso 135 tutta la zona che va da 135 a 143 è da tenere d'occhio perché può funzionare da resistenza è anche vero che le resistenze supporti esistono per essere rotti quindi vista la forza che abbiamo visto la forza dai 73 dollari ai 130 non mi stupirei di ecco di una rottura al rialzo però insomma facciamo molta attenzione entrare dopo un più 18% potrebbe essere comunque una mossa un po' azzardata soprattutto perché anzi solo perché siamo di fronte a una resistenza se la resistenza fosse appena stata rotta allora si poteva si potrebbe anche valutare un long a mercato però siamo proprio a ridosso di una resistenza quindi è troppo rischioso a mio avviso entrare adesso io in ottica di investimento sono long già da un po' di tempo ero entrato pensate più in alto qui a 170 ho incrementato a 70 più o meno e quindi come lungo termine non sono neanche messo male se avete delle domande più specifiche fatemele ma se cosa volevo aggiungere se volete fare trading sulle azioni di breve termine alcune azioni in kimura sono veramente molto molto competitive più pensate di interactive brokers quindi attenzione è una cosa veramente rara questa da vedere cosa intendi in ottica di investimento? investimento intendo nel lungo termine vado a fare un'operazione di investimento cioè vado a fare un investimento quando credo in quello che sto comprando nel lungo termine quindi dopo aver analizzato il settore di riferimento dopo aver analizzato i bilanci insomma vado a investire su qualcosa in cui credo per gli investimenti che vuol dire per gli investimenti operazioni di lungo termine quindi possono durare un anno due cinque bisogna vedere e non uso questo tipo di piattaforma uso altre cose però quello non è trading online ho capito? bene cioè non è trading come vediamo adesso così di breve termine da 70 a 130 sono cose che neanche guardi in ottica di cinque anni bene comunque beyond è un titolo in cui credo comprare adesso anche no si poteva comprare un po' più in basso andiamo a vedere quali sono dei livelli se ci dovessero essere dei ritracciamenti abbiamo un livello di 110 per esempio è un buon punto d'acquisto facciamo la fascia che va da 105 a 110 questi sono i livelli più importanti a mio avviso dove si possono acquistare delle azioni o comunque incrementare le posizioni vendere da questi livelli mi chiedete allora vendere da questi livelli è pericoloso anche questo perché il trend di breve termine è impostato al rialzo e il trend di breve termine è anche molto forte non è un piccolo trend ragazzi qui negli ultimi giorni abbiamo fatto performance incredibili anche qui salite del più del 20% in una giornata quindi c'è molta forza short target è troppo rischioso a mio avviso bene beyond l'abbiamo vista possiamo tranquillamente passare a un altro titolo azionario sto parlando di tesla queste sono le richieste che mi state portando avanti se ne avete altre fatemele pure per esempio leggo ora scusami se leggo solo adesso donato vti perfetto me lo segno qui poi mi chiedete anche usd yen uno strumento molto interessante che sto tenendo d'occhio in realtà sono già in posizione però vedremo quali possono essere dei livelli salienti tesla impazzita continua a salire avevo individuato un bel livello per entrare long adesso lo vediamo ecco operare long su titoli del genere con kimura veramente è una figata perché non si spende proprio niente poi mi chiedete anche euro gbp allora time frame orario di tesla avevo individuato un bellissimo livello avevo individuato un bellissimo livello che era questo eccolo qua poi chi ha fatto il mio corso sa bene perché ho individuato queste zone in primis abbiamo un minimo abbiamo questo minimo qui di questa candela abbastanza importante e che fatalità si appoggia sui massimi precedenti e poi abbiamo invece la parte superiore di questo trading range eccola qui che è il massimo di questa candela ad altissima volatilità quindi questa fascia è importante peccato che non siamo entrati qui il ritrazzamento non è stato abbastanza sostenuto però questa era la mia idea ora cosa è successo anche qui è abbastanza anomalo questo rialzo su tesla però insomma il trend di breve termine ragazzi il trend di breve termine è questo usd cad assolutamente mi dite che sta salendo va bene cosa stavo dicendo ok sì questa invece è la prossima zona tecnica interessante sto parlando comunque di time frame orario se mi dite voglio comprare tesla nel lungo termine no assolutamente per quanto mi riguarda è chiaramente perché qui abbiamo una un titolo un po' sopravvalutato diciamo che non lo comprerei su queste zone attenderei dei ritracciamenti un po' più sostenuti però insomma per quanto riguarda il trading di breve termine si può fare quello che si vuole perché perché abbiamo comunque degli stop molto stretti ciao Raffaele e Francesco scusa che ti sei appena connesso stavamo parlando quindi di tesla e stavamo individuando quelli che possono essere i livelli più interessanti guardate che bella che è questa zona perché questa zona è interessante il ragionamento è molto semplice e anche molto simile a quello che ho appena fatto in precedenza guardate abbiamo questa fascia fascia di resistenza che in precedenza era una fascia di resistenza ma che oggi è stata rotta con forza al rialzo ah no scusate questa era la candela di ieri se non sbaglio comunque fermi tutti che io devo ritracciare bene questa resistenza stiamo parlando di tutta la zona che va da 5.47 a 5.39 bene questa zona è importante perché qui abbiamo il massimo di questo bel candelone rialzista quello che dico io so che ci sono molte persone nuove però quello che dico io è attenzione perché tutte quante quelle candele ad alta volatilità quindi ovviamente ad alta volatilità rispetto a quelle precedenti sono da tenere d'occhio perché ci offrono sicuramente degli ottimi livelli che poi dobbiamo cercare di interpretare al meglio in questo caso che cosa abbiamo questa candelona ad alta volatilità il suo massimo è proprio qui 540 poi abbiamo un'altra candela ad alta volatilità che è questa attenzione io quando dico candele ad alta volatilità intendo da massimo a minimo non serve per forza che il corpo sia gigante no basta che l'escursione da minimo a massimo sia importante quindi anche questa è una candela molto importante bene qui che cosa abbiamo il massimo di questa candela che ci interessa che è 5,47 quindi la zona di supporto più interessante per seguire quello che è un trend abbastanza rialzista negli ultimi giorni è questa 5,40-5,47 se ritraccia qui si può comprare abbiamo comunque degli stop molto stretti perché se i prezzi dovessero mantenersi al di sopra di questa zona bene ma già se passiamo sotto chiudiamo la posizione perché potrebbe esserci uno storno più importante magari fino a 5,10 quindi ordine pendente long proprio qui da 5,40-5,45 poi valutate voi se siete un po' più aggressivi o un po' più conservativi quando faccio analisi del genere mi convincono le vado a fare anche nel mio conto di trading quando poi le vado a fare nel mio conto di trading che cosa faccio? entro nel gruppo traders club e condivido la mia operatività quindi Tesla Tesla ordine scriviamolo quindi perché lo farò ordine pendente da 5,45 ordine pendente da 5,45 qual è lo stop loss e il target price? allora se noi andiamo a impostare un ordine pendente da qui quindi da 5,45 abbiamo detto che lo stop loss è già la chiusura dei prezzi sotto questa zona supportiva quindi sto parlando di 5,40 già se chiude sotto 5,40 io valuterei una chiusura quindi ordine pendente a 5,45 ovviamente ordine pendente long ok con stop alla chiusura oraria sotto 5,40 quindi stop molto stretto forse l'ordine pendente lo potremmo mettere anche un po' più in alto quindi a 5,50 facciamo ok scusate ordine pendente long da 5,50 con stop la chiusura oraria sotto 5,40 perfetto e poi il target lo valutiamo intanto attendiamo il ritracciamento invio e ho inviato l'ordine pendente come vedete quindi condivido la mia operatività e allora una domanda comprato tesla a lungo termine da 330 sta dando grandi soddisfazioni secondo te il caso di chiudere la posizione o mantenerla? allora dipende che tipo di considerazione hai fatto perché se l'hai comprata a 3,30 ce l'hai comunque per il lungo termine se ce l'hai per il lungo termine non l'hai comprata sicuramente da tanto probabilmente ti dico l'avrai comprata dove? qua? quando ha rotto qua? forse? poco più in basso? forse su questo ritracciamento? intorno alla fine del 2019 Alessandro vediamo se ho indovinato cosa dici? qui più o meno? andiamo a cambiare il colore eccoci qua si preso in pieno bravo innanzitutto facciamo i complimenti tutti quanti Alessandro che si è acquistato tesla a 330 dollari se l'hai portata fino a 3,80 dove qui avevamo i massimi storici i 3,80 sono stati rotti 3,80 a 4,00 sono stati rotti con forza ritestati anche quindi io fino a qui posso dirti Alessandro sono onesto ero short io ero short qui perché? perché questo tra i livelli di 3,80 a 3,70 è stato sempre il livello che ha funzionato da resistenza negli ultimi anni infatti negli ultimi anni avevamo preso tutti gli short però se si va a sfruttare una resistenza più e più volte in questo modo prima o poi lo prende lo stop bene io questa volta l'ho preso quindi i prezzi hanno rotto con forza ritracciamento proprio sui 400 e da qui sta volando verso l'infinito a quanto pare quindi la domanda io più che portare a casa la posizione Alessandro io posterei piano piano lo stop in profit poi dipende però cosa intendi cioè se vuoi già se sai già che vuoi mantenerla per 5 anni allora tienila in portafoglio se invece pensi che sia salita tanto hai fatto il tuo profitto magari ti hai risposto anche molto non dico che stai facendo il 100% ma insomma stai facendo un ottimo risultato che stai facendo il 70% più o meno 65% quindi direi che puoi anche valutare o una presa di profitto oppure semplicemente spostare lo stop profit per esempio appena sotto questa candela potrebbe essere interessante spostarlo già a 4,60% sono ovviamente poi decisioni che devi prendere tu Alessandro come consideri che Tesla non fa utili ma il titolo continua ad alzarsi? si vede che le previsioni adesso sono lievemente modificate sono positive le vendite stanno andando forte quindi gli utili li farà e insomma sta avendo un cambio di marcia poi in realtà bisogna informarsi nel dettaglio ecco di queste cose però ragazzi la zona di 3,80% è stata rotta a livello tecnico e da qui si saliva perché il livello di 3,80% era importante non solo a livello tecnico ma proprio perché qui c'era un'alta densità volumetrica una volta rotta questa si sale e infatti è proprio così comunque alle prossime trimestrali parleremo anche dei ricavi utili e soprattutto dei progetti futuri però insomma adesso non è il caso di comprare però di seguire un trend del genere si e lo possiamo fare con la piattaforma di Kimura Trading gratis praticamente perché guardate c'è ragazzi adesso sta quotando 572,7 e la compri a 573 1,4 praticamente senza commissione paghi un po' di spread certo è un CFD però per chi vuole fare trading è perfetta a mio avviso bene per qualsiasi tipo di informazione poi basta che scrivete infochiocciolinvestire.biz e noi vi rispondiamo dopo Tesla però abbiamo parlato sia di Beyond che di Tesla andiamo avanti poi per tutte le domande costi overnight eccetera eccetera infochiocciolinvestire.biz oppure direttamente anche sul sito di Kimura Trading e poi insomma vi risponderanno di sicuro USDCAD andiamo a vedere cosa sta succedendo su USDCAD eh USDCAD eccolo qui allora c'è il dollaro in apprezzamento molto probabilmente vediamo che sta succedendo sul dollaro eccolo qua scusate che mi prendo il time frame giornaliero di euro dollaro perché si sta muovendo parecchio sì bene perché comunque io sono posizionato short su euro dollaro e sta andando molto bene e invece quello che non va benissimo cos'è? quello che non va benissimo è USDCAD e andiamo a vedere adesso che cosa è successo su USDCAD eccolo qui time frame giornaliero allora abbiamo USDCAD abbiamo preso uno stop dice Peter Valerio causa invariato tasso interesse CAD andiamo a vedere subito il calendario economico di investire.biz cosa è successo alle 16 presumo cosa siamo di mercoledì eccolo qua decisione sul tasso di interesse 1,75% che era quello previsto quindi Valerio dice causa invariato tasso sì li hanno mantenuti all'1,75% però la previsione era quella non era di un aumento o di un taglio Fabrizio è successo alle 16 probabilmente sì sì decisione sui tassi di interesse sul tasso di interesse che rimane stabile all'1,85% a breve ci sarà pure la conferenza stampa quindi il dollaro canadese il dollaro canadese ha perso un po' di valore a quanto pare io comunque ero short qui anzi sono ancora sono ancora short perché abbiamo individuato questa resistenza che ha funzionato per diversi giorni 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oggi però sembra voler rompere il rialzo quindi se i prezzi oggi mi chiudono sopra 1,31 chiudo la posizione e attendo nuovi e attendo nuovi trade interessanti però attenzione dobbiamo dobbiamo almeno io attendo la chiusura tra poco ci sarà anche la conferenza quindi valutiamo se il prezzo chiude sopra 1,31 io chiudo la posizione altrimenti rimango short quindi sto shortando USDCAD qual è la situazione qui? beh il trend è ancora a mio avviso ribassista certo dopo la rottura del livello di 1,31 però bisogna ammettere che le cose possono anche cambiare perché qui abbiamo dei massimi e dei minimi che via via saranno decrescenti ovviamente dobbiamo attendere come detto la chiusura di quest'oggi sopra qui euro dollaro invece che me lo state chiedendo in molti come il petrolio quindi sono questi due i prossimi strumenti che andiamo a vedere euro dollaro un attimo che elimino un po' di linee siamo short su euro dollaro più o meno da 1,1085 da questa zona qui euro dollaro sta scendendo sta scendendo anche se sembra non voler rompere definitivamente i minimi in area 1,10 qui questo minimo qui in chiusura cos'è 1,1076 ecco comunque avevo detto attenzione perché questa può essere una zona importante i prezzi da lì possono rimbalzare facciamo attenzione io però che sono comunque a favore di dollaro quindi vado a comprare dollari ho degli obiettivi un po' più ampi di questo chiaramente quali sono gli obiettivi che abbiamo su euro dollaro e che anche ovviamente vado a comunicare nel gruppo traders club allora abbiamo un target abbastanza interessante qui in area 1,1040 e poi un po' più in basso in area 1,10 avevo anche fatto un articolo su investire.biz questa volta l'avevo condivisa con tutti non solo con quelli presenti nel gruppo traders club andiamo a prenderlo se c'è ancora dov'è oh eccolo qua ve lo giro se volete dargli una letta l'ho scritto il 20 quindi due giorni fa ve lo giro in chat dovreste averlo eccolo qua l'ho inviato ora e questa era la mia operatività quindi short da 1,1083 stop loss la chiusura giornaliera al di sopra di 1,1110 target price primario 1,1020 bene 1,1020 questa poi ovviamente quando viene raggiunto il target price primario io lascio lascio correre o comunque porto sia a casa a parte della posizione ma solitamente non vado a chiudere tutto questa è la mia view su euro-dollaro cosa ne pensate voi avete qualche altra idea sul cambio dei cambi sul più tradato in assoluto euro-dollaro interessante comunque quello che è successo io penso sempre che l'individuazione dei supporti le resistenze statici ragazzi è non l'unica cosa che conta ma praticamente insieme chiaro allo studio della price action che poi grazie allo studio della price action si individuano i livelli corretti perché supporti resistenze puoi trovarne 10.000 su un grafico ma se non riesci a interpretare il trend cosa trovi a caso supporti resistenze e invece qui noi l'abbiamo individuata molto bene la rottura della trendline con il successivo ritracciamento un bel ritest non solo della resistenza dinamica ma anche di quella statica che a mio avviso sono più importanti quelle statiche e da qui poi i prezzi sono scesi con forza venerdì c'è stata una conferma ribassista importante il prezzo si è rimangiato tutti i rialzi in un solo giorno tutti i rialzi dei giorni precedenti e adesso stiamo attaccando i minimi sono quindi entrato short per questo motivo solitamente la mia operatività prevede la rottura prima di operare attendo la rottura e poi il ritracciamento e allora qui entro invece questa volta ho giocato un po' d'anticipo rispetto al solito proprio perché la candela di venerdì insieme poi anche la candela della rottura questa qui insomma mi hanno dato dei segnali ribassisti abbastanza interessanti ho deciso quindi di anticipare un po' lo short questo è solo questa è insomma la mia opinione poi adesso leggo un po' di domande che mi sono arrivate eccoci qui allora intanto siamo tantissimi online mi fa molto piacere poi andiamo a vedere l'oil va bene il gold mi chiedete aspetta che me li scrivo allora abbiamo visto beyond abbiamo visto tesla abbiamo visto usdcad abbiamo visto euro dollaro abbiamo visto euro dollaro ah prima però io voglio concludere con euro dollaro perché magari qualcuno non è in posizione e mi state chiedendo anche dei livelli che secondo me sono interessanti adesso li vediamo quindi prima di chiudere di passare ad altro vediamo questa cosa leggo nel frattempo le vostre domande Valerio dice di solito quando non varia il tasso di interesse la valuta perde valore nell'immediato dipende dipende secondo me non sempre se noti ogni tanto non ogni tanto ma su usdcad se il tasso viene confermato il cad si apprezza poi bisogna anche valutare le indiscrezioni precedenti se qualcuno ha detto qualcosa prima se le previsioni quali erano eccetera per fortuna io non guardo questi indicatori so che voi lo fate però io no quindi guardo solo il prezzo perché secondo me è l'unica cosa che conta e il 2019 lo conferma soprattutto con le persone che mi seguono in traders club e trading con Ichimoku abbiamo visto che questa è una cosa che non guardare i dati o comunque guardare i dati e rimanere sempre informati ma non farsi influenzare da essi è un vantaggio molto importante allora caffè e natural gas vediamo li scrivo non c'ero Riccardo con usdcad che fai ora allora come abbiamo detto usdcad faccio esattamente quello che ho detto attendo la chiusura dei prezzi quindi stasera o domani mattina se i prezzi quando accendo il computer sono sopra 1.31 chiudo la mia posizione se sono sotto tengo aperta la mia posizione io opero sempre così questo è quello che ho detto e questo è quello che farò quindi attendiamo world di cad euro dollaro bene stiamo in profitto anche se di poco ma insomma appunto a livelli ben più bassi abbiamo visto 10.40 10.20 e 10 nel senso 1.10.40 1.10.20 e 1.10 e adesso possiamo passare a euro dollaro quali sono i livelli più interessanti per uno short allora se i prezzi dovessero ritracciare un po' fare un piccolo rimbalzino io valuterei uno short da qui eccolo qua abbiamo la zona che va da 1.11 1.11.05 facciamo una fascia di prezzo un po' più ampia per non farla troppo stretta 1.11.05 a 1.10.90 bene se i prezzi ritornano domani dopo domani nei prossimi giorni al di sopra di questa zona all'interno di questa zona se io non fossi in posizione valuterei uno short valuterei uno short e vi dico anche con che stop loss perché è molto importante sempre si individuare il livello di ingresso ma se quando poi entriamo non sappiamo quando dobbiamo uscire siamo punto e a capo anche perché se non sappiamo quando uscire vuol dire che non abbiamo una visione chiara non sappiamo se poi stiamo lavorando su un trade con dei buoni rapporti rischio rendimento per esempio o magari anche se non ha rapporti di rischio rendimento ottimi però ci piace perché sappiamo che magari il livello di stop è difficile da raggiungere o da rompere in chiusura giornaliera ed è proprio questo il caso infatti perché se facciamo un esempio dovessi entrare nuovamente in area 1, 10 e 95 qui bene metterei lo stop qui adesso ve lo segno lo stop lo metto qui lo segno in rosso eccolo qui eccolo qui in rosso il massimo voglio essere preciso quindi aggiungo uno degli indicatori personalizzati che abbiamo creato noi bits o dettagli colore ok ecco qui vedete adesso se vado su guardate in alto a destra questo è un indicatore che ci da tutte le informazioni necessarie se io vado sopra la candela questa qua vedete di ieri ci dice in alto a destra il prezzo l'apertura la chiusura il minimo il massimo il massimo è 1, 11 17, 7 bene 1, 11 e 17 è il nostro stop loss sto parlando di sto parlando della chiusura dei prezzi al di sopra di quel livello alla chiusura dei prezzi sotto in fronte giornaliero quindi la candela deve chiudere al di sopra non deve solo passarci durante la giornata come il discorso su SDK è vero che siamo al di sopra ma voi qui potete valutare sul time frame giornaliero il livello di chiusura adesso? la risposta ovviamente è no perché deve ancora chiudere chiude a stasera chiuderà 23.30 ma tu stai fino alle 23.30 davanti il computer no semplicemente spengo il computer la mattina apro e vedo cosa è successo parlando di euro dollaro invece lo stop è questo 1.11 e 17 chiusura dei prezzi sopra questo punto ovvio che se chiude sopra di un punto non è una rottura sapete bene come valutare una rottura presumo no? quindi se chiude sopra 3 pip non è una rottura 3 pip se chiude sopra 20 sì quella è una rottura allora è meglio chiudere la posizione perché quello era il nostro livello chiave che è stato rotto comunque tornando all'operatività abbiamo uno short da questi livelli lo stop l'abbiamo individuato e i livelli di target sono sempre gli stessi abbiamo detto 1.10 è l'ultimo target qui in fondo ok questo è l'ultimo poi abbiamo anche questo abbiamo detto 1.10 1.10 e 20 e poi un altro supportino in area 1.10 e 40 però questi io li voglio fare di blue e anche questo oh bene ecco queste sono le zone più importanti a mio avviso per degli short su euro dollaro Roberto abbiamo una domanda sono short ma vorrei aumentare lotti che faccio aspetto ritracciamento allora innanzitutto devi sempre capire se aumentando i lotti adesso vai a fare un'operazione che ha dei buoni rapporti di scredimento poi io sconsiglio sempre di incrementare le posizioni se proprio vuoi incrementare almeno per quanto mi riguarda se io voglio incrementare delle posizioni aspetto aspetto dei prezzi migliori per acquistare qui siamo sui minimi non di giornata ma di queste zone qui io entrare short qui no piuttosto aspetto un po' un rialzo per entrare short anche perché se entri adesso lo stop è un 11.17 se entri dopo è sempre un 11.17 solo che qui lo stop sarà di oltre 50 pips mentre se entri qui sarà oltre i 25 quindi capito che la differenza è sostanziale quando vai a fare questo ragionamento puoi anche entrare adesso ma ovviamente se entri qui la tua esposizione sarà minore rispetto a che se entri qui perché ovviamente qui è un rischio molto minore a livello di pips rispetto a qui ma questo è normale se allora Francesco invece mi dice se guardi la trendline che parte dal 2 ottobre può rimbalzare vediamo la trendline vediamo di che cosa stai parlando quindi allarghiamo la trendline che parte dal 2 ottobre ok da questi minimi qui e poi qui c'è sempre una domanda che vado a fare che vado a fare a tutti voi bisogna capire se tracciate le trendline quindi i supporti e le resistenze dinamiche sulle chiusure o sui minimi dai facciamo un quiz vediamo siamo più di 100 persone live quindi qualche domanda ve la faccio facciamo un quiz tracciate le trendline sulle chiusure o sulle ombre su aspetta le ombre chi è che l'ha detto salvatore le ombre roberto le ombre francesco le ombre guido entrambe vince a gran voce chiusure però stiamo individuando quelle poche ombre quelle poche persone che le tracciano sulle ombre luigi invece è il migliore luigi che fa che opera esattamente come me dice io non le uso io non le traccio perché non mi piacciono tanto eh sì anche io la penso così però stiamo parlando di trendline adesso andiamo a vedere sia la trendline sulla chiusura sia quella sulle ombre io sono tutti e due invece Daniele e cerco di capire di volta in volta qual è la più la più guardata la più usata insomma quella che evidentemente funziona meglio questo vuoi intendere che in quel determinato momento sta funzionando meglio andiamo a tracciarle entrambe allora vediamo abbiamo una trendline sulle chiusure che è stata rotta e ritestata e se invece noi andiamo a tracciarla dai minimi abbiamo qualcosa di assolutamente differente vedete due cose completamente differenti io però vi dico che le traccio sulle chiusure poi ognuno fa quello che vuole attenzione non sto dicendo che chi le traccia sulle ombre sbaglia perché vi dico anche che dipende dal può anche dipendere dal time frame se andiamo su un time frame settimanale o mensile quindi a molto grandi io le traccio sui massimi e sui minimi invece dal giornaliero inizio a tracciarle sul giornaliero invece le traccio sulle chiusure anche sul 4 ore poi più vado in basso allora il ritorno alle ombre cioè uno dei ragionamenti un po' complicati che faccio nella mia testa matta però ragiono un po' così o almeno ragionavo perché adesso io le trendline manco le uso comunque grazie per le numerose risposte non sono riuscito a leggerle tutte veramente troppe comunque grazie quello che vi dico è che abbiamo queste due trendline abbiamo queste due trendline e secondo me la più valida è quella sulle chiusure quindi secondo me la trendline è già stata rotta è già stata testata e secondo me si proseguirà verso il basso avevo già questa idea però ancora prima di tracciare queste trendline perché mi sono concentrato su che cosa sul trend di brevissimo termine che guardate il mio ragionamento è ancora più semplice qui cosa abbiamo due un doppio minimo ok da qui cosa è successo i prezzi sono saliti e hanno fatto massimi e minimi crescenti poi c'è stato un cambiamento perché abbiamo avuto diverse candele ad alta volatilità due in particolare cioè questa e questa che hanno cambiato che hanno cambiato proprio il trend a mio avviso perché non ci sono mai state all'interno di questo trend rialzista delle candele così importanti quindi sono stati aggiornati i minimi quindi siamo tornati al di sotto è stato fatto un massimo decrescente e quindi io adesso cerco sempre tramite lo studio della price action individuazioni di sopporte resistenze statiche di trovare quei livelli che possono essere interessanti per uno short perché io qui ho dei massimi e dei minimi via via decrescenti poi su euro dollar è un po' particolare perché nell'ultimo periodo è anche vero che è stato un po' complicato insomma starci dietro perché non è che si sia comportato alla grande invece un bellissimo strumento che si sta comportando molto bene è il buon CHF Yen chi è che fa questo strumento? perché io non lo tradavo mai finché non mi ricordo chi e lo ringrazio ha deciso di farmi analizzare CHF Yen e da lì abbiamo fatto quattro trade tutti giusti e adesso ve li faccio vedere ma soprattutto vediamo se ce ne sono ancora di buoni nel frattempo Roberto fa un'ottima domanda mi dice grande Leonardo eccolo là Leonardo è stato fate gli applausi a Leonardo un applauso a Leonardo perché lui mi ha fatto scoprire CHF Yen e devo dire che sta andando molto bene quante operazioni abbiamo fatto Leonardo quattro cinque non mi ricordo però le abbiamo prese tutte bello CHF Yen mi piace almeno per ora vero eh sì lo so che è vero Leonardo no invece un'altra domanda alla domanda che mi interessava molto guardi ma i volumi per valutare una candela allora Roberto questa è una bellissima domanda e io ti rispondo così i volumi io li guardo nelle azioni perché lì abbiamo dei volumi veritieri ci sono tutti gli scambi invece nel forex si può cercare di interpretare i volumi quindi cercare di capire se in quella candela c'è stato un forte scambio o meno sto parlando del forex perché non si potrà mai sapere qual è lo scambio effettivo di contratti o l'acquisto e la vendita dei contratti su euro dollaro è impossibile non esiste è impossibile saperlo invece sulle azioni sì quindi la risposta alla tua domanda Roberto è sì i volumi li guardo sulle azioni importantissimo anzi farò anche un corso a proposito perché veramente il livello di 73 del buon beyond l'ho trovato proprio l'ho trovato solo grazie ai volumi non anche 73 dov'è 73 qua non c'è tutto lo storico però insomma 73 era a livello fico 75 73 era la zona 75 73 solo grazie al volume questo niente di più poi che fatalità da 73 sono uscite delle notizie che sono state positive per beyond bla 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 ok bene però intanto da 73 anche gli short fatti negli anni su tesla sono stati fatti anche grazie all'analisi volumetrica poi il fatto che i prezzi hanno rotto i 380 al rialzo e abbiamo preso lo stop e ragazzi quello succede succede come tutti i supporti e le resistenze prima o poi vengono rotte vedo che Alessandro vedo che nel traders club ogni tanto ho imposti qualche operazione intraday usi le stesse strategie dei grafici giornalieri allora uso dipende non è facile rispondere a questa domanda però diciamo che i ragionamenti che faccio più o meno sono gli stessi ovvio che nell'intraday i ragionamenti da fare cioè allora è difficile rispondere a questa domanda comunque uso sempre cerco cerco di valutare di studiare la price action quindi più o meno è la stessa cosa la gestione è un po' diversa la gestione della posizione è differente se faccio trading intraday magari non vado ad attendere la chiusura della candela e preferisco tenermi uno stop in piattaforma quindi agisco in maniera un po' diversa però diciamo che i ragionamenti più o meno sono quelli dopo possiamo guardare gbpud che mi sembra si stia creando qualcosa di interessante andiamo a vedere gbpud ma perché no prima però volevo vedere hfyen voglio fare un altro quiz chi è che lo trada questo cross sconosciuto neanche tanto sconosciuto però insomma non è uno dei più tradati sicuramente allora un attimo che cancello Leonardo ovviamente è chiaro che c'è Leonardo anche Giulio allora chfyen è stato molto interessante l'abbiamo l'abbiamo seguito in questo modo allora qui non abbiamo tradato niente lateralità ok poi da qui c'è stato impulso ritracciamento ah sì adesso me lo ricordo rottura di questa zona delle resistenze forte impulso rialzista a 111 abbiamo acquistato qui siamo andati a target qui l'abbiamo chiuso adesso non mi ricordo quanto poi il prezzo è tornato a 111 e abbiamo acquistato di nuovo e non mi ricordo dove l'abbiamo portato a casa Leonardo se tu puoi aiutarmi con i livelli comunque in traders club c'è scritto tutto bene poi che cosa abbiamo fatto grazie allo studio lì sì mi ha aiutato l'indicatore cimoco e domani lo vediamo alla sessione se volete partecipare però non è in regalo anche quella però se aprite il conto con kimura ce l'avete assolutamente in regalo cosa abbiamo fatto qui abbiamo studiato anche la ciclicità in questo frangente quindi abbiamo preso il minimo che è partito questa zona di minimi abbiamo visto quanti periodi c'erano da minimo massimo e siamo andati sul time frame a un'ora per valutare uno short che abbiamo fatto da da qua forse un attimo che ve lo dico subito anzi ve lo faccio pure vedere CHF Yen CHF Yen CHF Yen lo troveremo prima o dopo 11380 qua più o meno e cosa è successo poi il prezzo è sceso e dov'è che si è fermato il prezzo si è fermato su un livello di Fibonacci non lo uso molto Fibonacci però questa volta qui stavo semplicemente prendendo un piccolo ritracciamento non voglio andare a non penso che il trend sia cambiato sul 38 quindi a 113 abbiamo venduto ora la situazione qui è interessante perché si possono creare delle buone opportunità a mio avviso il trend ragazzi io qui vedo un trend palesemente rialzista quindi ad ogni ritracciamento andiamo a comprare bene però quando è che finisce questo ritracciamento è sempre quella la domanda più importante abbiamo diversi livelli vi ricordate che prima stavo parlando di candele ad alta volatilità che rompono i massimi precedenti bene qui qual è la candela più importante ricordatevi questo livello 38% posizionato qui a 113.07 e lo manteniamo qui leviamo Fibonacci non ci interessa più ok abbiamo questo impulso e questo ritracciamento qual è la candela più importante dell'impulso la candela più importante dell'impulso a mio avviso è proprio questa eccola qua perché questa è la candela che ha rotto i massimi precedenti e non l'ha fatto con poca forza ma con molta forza proprio una bella rottura quindi questa è tutta una zona buona per acquistare bisogna capire se lo dobbiamo acquistare adesso a 113.25 oppure a 112.60 c'è una bella differenza ovviamente se andiamo a acquistare qui avremo uno stop diverso da dovremo impostare uno stop differente quindi andiamo a vedere cosa si può fare un livello buono per entrare potrebbe essere 113 ok ci può stare oppure l'altro lo abbiamo a 112.70 quindi stringiamo sempre di più la fascia ecco qua questa secondo me è la zona più interessante io qui so già qual è il mio stop loss e anche qual è il mio target price bene una volta che sappiamo il livello d'ingresso qual è la linea guida per lo stop loss e una mezza idea del target price noi abbiamo fatto tutto non ci serve altro quasi nient'altro attenzione serve da quel momento la gestione della posizione quanto vado a rischiare per questo trade quindi lo stop loss a mio avviso è la chiusura dei prezzi sotto questo minimo il target price primario perché poi si lascia correre è a 114 114 bene quindi abbiamo se entriamo a 112.80 per esempio anzi ma a 112.90 113 stop loss di più o meno 80 punti target price di 110 non è proprio un'operazione con degli ottimi rapporti rischio rendimento però ricordiamoci che questo è il primo target da cui si può lasciare correre perché siamo in un trend rialzista e il trend rialzista prevede nuovi massimi nel frattempo c'è anche Alessandro che dice hai notato hai notato in quanti sono posizionati short eh ragazzi il 96% quindi sono ancora più contento di posizionarmi long perché sappiamo che i retail solitamente perdono la maggior parte e quindi noi ci posizioniamo al contrario poi io questo è un indicatore che uso alla fine poi della mia analisi perché io prima devo individuare i livelli tramite lo studio della price action delle candele e dopo faccio tutte le altre considerazioni che voglio aggiungo indicatori e cose ma se prima non sappiamo interpretare il trend è molto più complicato secondo me essere profitevoli nel lungo termine comunque stop loss alla chiusura giornaliera sotto 112 e 45 target price primario 114 per poi comunque proseguire anche a obiettivi più importanti 115 116 ma quello lo capiremo quando solamente dopo aver visto qual è la fine del ritracciamento quando vediamo quindi quando ci accorgiamo che il ritracciamento è finito quindi abbiamo il punto 1 abbiamo il punto 2 e poi abbiamo il punto 3 che non sappiamo ancora dov'è perché non si sa se è ancora finita qui bene se quando abbiamo il punto 3 possiamo definire tramite l'espansione di fibonacci gli obiettivi i possibili scenari che ci saranno e quindi calcolare i target grazie all'espansione di fibonacci avremo dei livelli tracciati che poi andremo a confrontare con i livelli passati per capire quali sono i più interessanti ora però abbiamo detto per concludere long da 100 e cosa facciamo 112 una via di mezzo 112 e 85 sì bene quindi io imposterò un ordine pendente qui so il mio stop loss so il mio target price e so anche che se prendo lo stop loss quindi se i prezzi chiudono al di sotto di questo livello perderò all'incirca il 2% 1,5% 1% del mio conto totale di trading in questo modo dopo aver avuto tutte queste informazioni sappiamo ovviamente regolarci sull'esposizione a mercato esposizione a mercato la decidiamo un lotto due lotti tre lotti quattro dieci quindi un lotto intero questo poi dovete valutarlo voi personalmente però è normale che se qui entrate long perché avete fatto tutte le vostre considerazioni siete fighissimi contentissimi e siete sicuri di quello che fate e andate a rischiare il 10% per un trade lo zero è molto vicino lo zero nel conto vostro è molto vicino secondo me quindi facciamo sempre attenzione a rischiare poco facciamo l'ultimo strumento che mi avete chiesto cosa andiamo a vedere facciamo l'ultimo strumento GBPAUD assolutamente sì andiamo a vederlo prima vi ricordo che il 23 c'è il corso di Luca fare soldi come le big banks si andrà a studiare gli istituzionali e le mosse e le posizioni a mercato degli istituzionali sulle valute un po' su tutto in realtà io sarò uno studente perché anch'io sono iscritto a questo corso in quanto ignorante in materia quindi anch'io parteciperò proprio perché poi le informazioni che prenderò qui mi serviranno per andare ad operare sui mercati come sto facendo adesso solo che avrò informazioni in più tu Riccardo quanta percentuale del tuo trading totale usi a trade allora non so se la domanda che hai fatto è questa ma mi stai chiedendo quanto rischi per ogni trade perché quanto percentuale usi è un'altra cosa quanto rischio prendi è diverso è una cosa quanto rischio prendi è diverso io ti dico che per ogni la risposta è comunque sempre la stessa perché a me interessa rischiare poco quindi se ho detto che da qui entro l'onda 112-85 io rischierò il 2% 1,5% 1,5% quindi se ho un conto di 10.000 euro 40-50 pips saranno l'1,5% del mio conto 150 euro e da lì calcoli l'esposizione andiamo a vedere GBPOD ah sì vi ricordo che il corso è in offerta fino a per 7 ore e poi costerà di più secondo me anzi ho visto l'anteprima e ragazzi ne vale proprio la pena andiamo a provvedere GBPOD Ettore allora ciao Riccardo anche se chiudi le tue posizioni alla chiusura delle candele daily sopra sotto un determinato livello non usi mai uno stop loss molto largo ovviamente di protezione ad esempio il doppio della tua esposizione bravissimo Ettore ottima domanda la risposta è sì magari questo lo vediamo la prossima volta uso uno stop loss molto largo di protezione per casi strani se dovesse succedere qualcosa la mia risposta è sì io consiglio di farlo consiglio comunque lo faccio uno stop loss di sicurezza calcolato sulla volatilità media degli ultimi 14 periodi semplicemente come si valuta questa cosa si mette sul grafico l'indicatore ATR l'indicatore ATR ci dà un numero quel numero lo si moltiplica per 2 o per 3 in base allo strumento e all'analisi che abbiamo appena fatto quindi se io vado a prendere euro dollaro sono short qui sono posizionato short il mio stop la chiusura dei prezzi sopra 1 e che ne so 1 e 10 bon perfetto il mio stop so che la chiusura è sopra qui ma voglio tutelarmi un po' di più quindi lo studio studio uno stop di sicurezza sulla volatilità andiamo quindi ad aggiungere l'indicatore ATR semplice lo aggiungiamo al grafico che cosa ci dice che di media negli ultimi 14 periodi da massimo a minimo il cambio euro dollaro si è mosso di 50 pips che noia mortale veramente di 45 pips 45 per 2 fa 90 quindi il mio stop di sicurezza sarà 90 pips 90 pips dov'è? questo è il mio stop di sicurezza 1,11 e 60 quindi io avrò uno stop in area 1,11 e 60 per tutelare il mio conto se per caso dovesse succedere qualcosa di assolutamente anomalo e così vado anche a letto più sereno però il mio stop reale è la chiusura dei prezzi sopra 1,10 la percentuale la calcolo però su questo stop non su questo esiste il rischio che a causa di un gap non venga preso lo stop di sicurezza? sì e servono gli stop loss garantiti però sul forex non succede praticamente mai Nicola perché io ah mi hai fatto la domanda di prima su quanto quanto mi espongo a mercato perché io ad esempio sul mio conto totale di solito investo nei trade il 5% del mio conto ok non so risponderti in questo momento perché questi calcoli non li faccio solitamente non li faccio perché io baso tutto sulla percentuale di rischio che vado a prendere per ogni tipo di operazione però insomma adesso basta che faccio due conti poi te lo farò sapere assolutamente ragazzi abbiamo finito ah no fermi tutti abbiamo no abbiamo GBPOD abbiamo detto che dobbiamo vedere e poi ci salutiamo è durato un po' di più questo trading live ma spero di avrevi dato un po' di informazioni allora GBPOD time frame giornaliero e qui la situazione dici che è interessante per quale motivo perché io qui non so sinceramente cosa fare io qui lascerai perdere proprio gold non l'ho fatto non abbiamo fatto in tempo sono arrivato in ritardo Johnny si è finita ormai la sessione comunque riceverai la registrazione visto che ti sei iscritto Peter dice daily se chiude così si potrebbe acquistare in zona 1.91 ne parliamo domani alla sessione di trading con Ichimoku perché qui non so non devo valutare un attimo prima non mi convince tanto questo long ecco basta abbiamo finito sono le 17.03 so che le domande ce ne erano ancora però ragazzi non ho fatto in tempo a spiegare Roberto dice grazie Riccardo ho cominciato oggi con il real è andata bene ok sono molto contento vi ricordo che se volete seguire tutta la mia operatività potete seguirmi in traders club e nelle sessioni trading con Ichimoku se prendete traders club le sessioni trading con Ichimoku sono gratis se volete tutto gratis basta aprire un conto con Kimura Trading ricordatevelo per un mese avete tutto gratis e poi insomma ci mettiamo d'accordo si può valutare qualsiasi tipo di offerta io con questo ho concluso ragazzi spero che vi sia piaciuta questa sessione riceverete la registrazione quanto prima e ci vediamo domani su investire.biz buona serata e buon trading a tutti